è forte, però vento in quota c'è, guarda che roba quindi è buono eccoci in partenza l'operatore scivola continuamente e dovrà stare attento piove grazie seguo la camminata lungo il percorso stiamo andando sopra il pianoligori sicocasotto di ricovero ponte radio da qui potrebbero partire numerosi barconieri il posto è fantastico una piazzola naturale da qui è possibile sparare per appostarsi cartuccia ovunque dappertutto Ischia è la terra dei cacciatori il castello aragonese a Ischia siamo proprio sopra quella di fronte a noi è procida minchia la natura è bedda è 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